Se la linea del contagio di ieri si era fatta preoccupante, non tanto per quello che riguarda il numero dei positivi, ma per la percentuale di contagiosità, oggi nonostante in Abruzzo sia entrata in vigore una zona rossa, quella del comune di Sant'Egiglio alla Vibrata, a causa di un'incauta riunione conviviale del primo maggio e che ha lasciato il segno, i numeri sono del tutto tranquillizzanti. Sono infatti solo 79 i nuovi positivi e questo potrebbe essere un riferimento parziale se non fosse che, al contrario di ieri, il numero dei tamponi molecolari esaminati è alto, vale a dire 3.956. Questo fa sì che la percentuale di contagiosità, che ieri era al di sopra del 6%, oggi sia scesa al 2%. Quella comprensiva anche dei test antigenici è dell'1,2%. Dunque in linea con il dato nazionale. Oggi è l'Aquila, la provincia con il maggior numero di nuovi positivi, ne conta infatti 35, poi c'è Pescara con 22, Teramo con 19, mentre Chieti, a lungo la provincia maggiormente colpita, se la cava con soli due nuovi casi di positività. Purtroppo torna a salire il numero delle vittime, che oggi sono 9, per un totale, dall'inizio della pandemia, di 2.447 morti. Dei 9 decessi, 2 sono riferiti ai giorni scorsi e ben 4 sono in provincia di L'Aquila, 2 in quella di Teramo e una vittima a testa la contano Chieti e Pescara. Le ottime notizie invece arrivano dal fronte ospedaliero, dove crollano i ricoveri. Sono 24 meno di ieri, infatti i pazienti ricoverati nelle terapie non intensive e così i letti occupati nelle aree mediche degli ospedali abruzzesi sono 254. Non ci sono nuovi ricoveri invece nelle terapie intensive e così i pazienti attualmente ricoverati restano gli stessi di ieri, vale a dire 25. Ottimo segnale questo, così come quello che arriva dal numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare, con sorveglianza attiva da parte dell'Asla di competenza, che sono 153 meno di ieri, per un totale che continua a scendere e ora è a quota 7.392. Torna ad essere alto il numero di guariti dal Covid-19, oggi sono 251 più di ieri e questo ovviamente fa sì che gli attualmente positivi in circolazione siano 181 meno di ieri, per un totale di 7.671 che sembrerebbero tanti, ma non lo sono affatto.